Il convento della Madonna dei Miracoli è annesso al santuario monimo che si trova alla fine di un lungo rettilineo che parte dal centro agricolo di Motta di Livenza in provincia di Treviso sulla riva destra del tortuoso corso del fiume Livenza. Il convento conserva due splendidi chiostri dell'inizio del 1500 che nelle lunette dell'ercate presentano affreschi del 1674. La stessa chiesa è del 1513 e fu costruita dopo un'apparizione della Madonna. Si presenta con una bella facciata e un portico che continua nel chiostro adiacente, un terzo chiostro dunque. All'interno della chiesa si notano alcune importanti opere d'arte, fra cui il monumento ad Antonio Scarpa, anatomista e chirurgo che visse tra 1700 e 1800 della scuola del Canova. Nell'abside di sinistra una lunetta affrescata da un allievo del Pordenone, un'assunzione di Palma il Giovane, un'apparizione della Madonna della scuola del Tiepolo, sull'altar maggiore una pala marmorea attribuita al San Sovino.